Essere convocato già con la prima squadra è comunque bellissimo, soprattutto in Champions, qui diciamo che anche se non fossi entrato sarei stato comunque felice. Probabilmente il pensiero di entrare l'ho capito più o meno sul 2-1 nostro. Quando mi ha chiamato il mister ho sentito un po' i brividi, ero emozionato, ero molto contento. Mi ha dato per lo più consigli tattici, mi ha dato dei consigli anche su come pensare in partita, sul star tranquillo, giocare con coraggio. Al gol non ho capito più niente, è stata un'emozione che a parole non riesco veramente a descrivere. Sono stato veramente felice quando mi hanno abbracciato tutti i miei compagni, però quando me l'hanno annullato ho sentito un po' di delusione, un po' di rammarico. Quando ho visto i miei genitori emozionati sono andato ad abbracciarli. Mi seguono dappertutto, quindi questo esordio lo dedico anche a loro. Quando sono entrato in campo questa partita mi hanno fatto sentire tutto il loro sostegno, facendo i cori e questa è una cosa che ti dà molto fiducia. La sera non ho usato il telefono e la notte l'ho passata un po' in bianco, sono sincero. Avevo ancora tanta adrenalina in corpo.